Ma negli ultimi mesi la pubblicazione dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti è sempre stata accompagnata da violenti movimenti al ribasso perché i mercati l'hanno sempre letta in modo negativo ogni volta che non c'è stata quella contrazione soprattutto del valore core, quello che esclude le componenti più volatili, food and energy. Ecco oggi è avvenuto il contrario, quindi finalmente questo dato è il risultato leggermente migliore del previsto e quindi il risultato è espansione verso il basso, questo è il rendimento del decennale tedesco, ora vediamo quello americano, ma che ieri già l'analisi tecnica ci aveva anticipato. Ne avevamo parlato formazione di un top complesso qui sui rendimenti dei decennali, avevamo il wedge, il famoso wedge che si forma alla fine dei movimenti rialzisti, poi è stato rotta la trendline, poi c'è stato il pullback debole e da un paio di giorni si era consolidata la formazione di un top con un bearish engulfing, qui indicato quello dell'8 novembre, quindi oggi espansione verso il basso e siamo andati verso una linea molto importante, la neckline di un possibile testa e spalle ribassista, dove qui nella formazione del wedge si integra molto bene col top di tre giorni fa che fa da spalla destra. Quindi in questo caso la rottura di questa configurazione, che ancora non è avvenuta, qui siamo sui supporti anche della volatility stop line, comunque la rottura di questa formazione avrebbe obiettivi molto interessanti e chiaramente qui l'obiettivo più logico sarebbe il ricongiungimento, prima o poi con la media a 200, visto il movimento parabolico che c'è stato. Alla fine dell'estate, no, ne abbiamo parlato tante volte, chi segue lo sa, quindi non voglio ripetere discorsi triti e ritriti, ci siamo sempre concentrati molto, da un punto di vista tecnico, su questi movimenti verticali, parabolici, di allontanamento della media a 200, questo è il decennale americano, ieri la candela era stata più di indecisione perché i dati riguardavano principalmente l'America, i dati di oggi, quelli sull'inflazione europea uscirà più avanti, comunque guardate il candelone di oggi, ha recuperato ieri e oggi, si è messo praticamente nella stessa situazione tecnica. Qui la neckline è meno definita, però anche qua possiamo considerare, sebbene inclinato verso l'alto, un testa e spalle, poi casomai lo tracceremo meglio successivamente. Quindi, conseguenze, allora, i rendimenti in ribasso, ovviamente ha lanciato i bond verso l'alto, a cominciare dal nostro BTP più 2,4 che sta andando a ingaggiare 117 e anche qua, ecco, vedete specularmente come si formano le figure, anche qua abbiamo un testa e spalle rialzista con una testa fatta da un triplo minimo, quindi questa è una figura molto potente se dovesse essere rotta a rialzo, non ci siamo ancora, quindi attenzione, oggi c'è stato molto entusiasmo, sicuramente tante ricoperture, sicuramente c'era tanto scoperto, questo è il decennale americano, il T-Note, guardate che discesa, senza soluzioni di continuità a partire da agosto, avevamo formato un'ampia base, però adesso dobbiamo vedere la prosecuzione di questo rally. Finiamo col Bund, così li vediamo tutti, stessa situazione, qua il testa e spalle rialzista lo avevamo già tracciato, situazione simile a quella del BTP con il livello da tenere d'occhio, è quello che avevamo già tracciato un paio di giorni fa, qui a 141, quindi comunque giornata importantissima, euro più 1,5, chiaramente aspettative di calo del differenziale dei tassi, l'euro ci aveva già dato il warning qui, quindi avevamo già parlato dell'euro, abbiamo dato target 1,04 perché è la parte alta del vecchio trading range, così come avevamo parlato tempo fa, visto che siamo qui su questa pagina, del top sui bond, evening star ribassista sui rendimenti, quindi la AC Tecnica già ci stava dando i primi segnali che ci poteva essere un reversal. Vediamo se questo verrà confermato, comunque questo segnale dell'euro è molto importante perché la forza del dollaro stava creando tutta una serie di situazioni negative e di scompensi. Le borse, le borse ovviamente euforia per il momento, euforia per il momento perché chiaramente il dato sul CPI riduce le probabilità che la Fed possa continuare nel suo comportamento aggressivo. Adesso andiamo a vedere l'America, vediamo prima la Germania che è appena chiuso, anche qui sulla Germania avevamo detto che c'erano i ribassisti alle corde qui sul DAX, l'avevamo detto il 6 novembre, che vuol dire ribassisti alle corde? Significa che i prezzi stavano salendo, non ci davano delle chiare configurazioni di top, qui c'era stato rally a fine corsa, avevamo intitolato un video rally a fine corsa perché qua aveva segnato il fine corsa con questo top di tre giorni, poi rotto al rialzo oggi, espansione verso l'alto e dove siamo andati a finire, guarda caso, io l'ho lasciato qua tracciato perché queste cose qui prima o poi vengono riviste, non so se chi segue si ricorderà, nel mese di giugno, questo è stato un altro, il crollo proprio in seguito alla pubblicazione dei dati sull'inflazione, qua ci sono sempre stati i dati sull'inflazione e hanno causato diversi movimenti ribassisti molto ampi nel corso dell'estate, il primo è stato quello di giugno e qui aveva lasciato aperto due gap di fila, questi due gap, di cui il primo è stato ricoperto col rimbalzo, questo qui che sto indicando ora a 13,5 e il secondo non era mai, il DAX non era mai riuscito ad arrivarci, mentre l'SMP sì, quindi aveva avuto debolezza relativa nel corso dell'estate, invece poi prima o poi, ecco come vedete, i prezzi si rivedono sempre come dice qualcuno e siamo andati proprio a toccare. 14 e 100, questo è il livello che mancava da tanto tempo, quindi i ribassisti qui sono stati messi alle corde e oggi una spallato, ovviamente tra virgolette, perché da punto di vista tecnico queste cose bisogna attendersele, quando avvengono rotture così forti, dopo un movimento che non ha avuto praticamente pause, a parte questo top che abbiamo visto qui all'inizio del mese di novembre, qui ci sono tantissime posizioni prese in contropiede, poi ci avviciniamo alle scadenze tecniche, quindi non c'è da meravigliarsi che poi dopo avvengano questi movimenti molto molto bruschi, fatti comunque alla fine di un movimento di recupero tecnico, adesso la prossima sarà una fase molto molto importante, ne parliamo meglio nel video di domani, non perdetevelo perché chiaramente quello che sta succedendo oggi avrà impatto sulla chiusura di fine settimana e sui grafici settimanali che noi seguiamo il venerdì, quindi vedremo come sarà cambiata la situazione sul weekly e se dobbiamo attenderci dei falsi segnali dopo ecco questa diciamo uscita sorpresa, il fatto che siano scattati tutti questi stop, o se per qualche motivo dobbiamo invece attenderci l'inizio di una nuova fase, quindi non perdetevi il video di domani. Fuzzimib più 2.5 è stessissima situazione, siamo andati a rivedere i mese di giugno, quindi l'inizio della discesa violenta in seguito alla pubblicazione dei dati sull'inflazione americana. Passiamo all'America, ecco qui l'America abbiamo due versioni, fermo restando che comunque anche qui abbiamo dei rally importanti, il DAX abbiamo visto ha chiuso più 3.5, il Dow Jones ancora mancano 4 ore alla chiusura e quindi siamo ancora ben distanti dalla chiusura, per il momento registra quasi più 3% e si va anche il Dow Jones a fermare a 33.500, esatto su un altro gap, quello aperto qui nel mese di agosto, prima delle dichiarazioni di Jackson Hole alla fine del rally che l'aveva portato a visitare la media 200, quindi questo per il momento con la candela di oggi fa ancora parte del top complesso, cioè mentre il DAX si vede che c'è un'uscita violenta verso l'alto, sopra la media 200, il DAX che era stato molto più compresso nel corso dell'estate, qui invece la conformazione di top è ancora valida, è ancora valida, non c'è stato un breakout, perché qui la candela di oggi volendo è un hanging man, anzi volendo anche se non lo vogliamo è comunque un hanging man, quindi sono tutte configurazioni che avvengono in presenza di un'area di top, quindi per questo dico analizziamo un po' meglio a fine settimana tutto quanto, perché non tutti gli indici stanno dando dei segnali univoci, poi vedremo se l'Europa, per quale motivo l'Europa e soprattutto il DAX ultimamente ha sovraperformato sull'America, S&P 500 lo prendiamo perché è un po' a metà strada, visto tra un indice come il Dow Jones che è carico di titoli industriali ed è equipesato, è il Nasdaq che invece è più sbilanciato sui tecnologici. Questa è una candela assolutamente di sorpresa, perché non solo gap, ma candele rovesciate, cioè back to back, noi qua c'eravamo una candela nera, con chiusura qua sotto, che è stata annientata da una candela gialla, con apertura a gap violentissimo verso l'alto, e qui come al solito invito a considerare questo come un mega bullish engulfing, perché è come se mancasse la parte notturna bassa, e quindi molto importante. Però ci siamo fermati e 3.900, per il momento siamo 3.900, resistenza è importante, più lontani dalla media 200, vedete la differenza col DAX. DAX è stato penalizzato nel corso dell'estate e adesso sta mostrando forza relativa, a sorpresa, no? Ecco, comunque, questo l'S&P 500, il Nasdaq, vediamo l'ETF delle 3Q, che sta facendo segnale un clamoroso più 6%, stessa configurazione, quindi chiusura pesante al ribasso ieri, e oggi violentissimo ritorno verso i massimi del range di periodo, con un'apertura a gap a sorpresa, che chiaramente sta mettendo alle corde un sacco di posizioni short, qui il target a 286, è chiaramente aperto nel corso dei prossimi giorni, vediamo domani come chiuderà la settimana. Quindi tanta volatilità, tanta volatilità, nel senso tante variazioni sui prezzi, questo è importante, il recupero di questo minimo relativo, che aveva fatto da freno qui a questo rimbalzino, quindi ci sono diversi segnali bullish, anche se la configurazione del Nasdaq, come vedete, rimane molto molto più debole, guardate solo la distanza della media a 200. A proposito di volatilità, ho detto tanta volatilità, ma in realtà la volatilità, il VIX quantomeno, cioè abbiamo volatilità nel senso di range giornaliero, ma il VIX che viene invece misurato sul prezzo delle opzioni out of the money dell'S&P 500, è calato bruscamente, perché questi movimenti a rialzo sono indicatori di una riduzione del rischio e quindi cala il prezzo delle opzioni, quindi la volatilità misurata attraverso il prezzo delle opzioni è calata, anche se abbiamo avuto dei range molto ampi, una volatilità operativa, una volatilità reale, quella sulla base della dimensione delle candele, oggi è stata alta, ma il VIX invece è calato, ecco, spiego, non so se sono stato chiaro in queste cose, lo so che sembrano delle contraddizioni, ma non lo sono, perché stiamo misurando due grandezze diverse. Ok, quindi questo meno 11 importante, perché avevo detto che qua ci eravamo fermati a 25, quindi non era ancora un segnale incoraggiante, anche qui vediamo se ci sarà una prosecuzione verso il basso, significa che qui c'è ancora spazio per andare verso le resistenze superiori. Ok, quindi ora dobbiamo vedere se questo è stato un candelone di ricoperture e di, appunto, di sorpresa e poi lascerà il passo a un consolidamento, oppure se riuscirà a trovare la forza di restare sotto 25, quindi è importante vedere adesso nei prossimi giorni che riusciamo a rimanere sotto questo livello che sto indicando adesso, 24,7 per l'esattezza. Questo per quello che riguarda il VIX. Quindi poi altre conseguenze immediate, vabbè, ce l'abbiamo un po' su, ovviamente l'oro, l'oro più 2,5 va a rompere la resistenza a 1.730, qui siamo aperti fino a 1.800, quindi attenzione ora qui alla tenuta di questo livello di resistenza, ovviamente non vogliamo vederlo tornare sotto, tracciamolo così poi ce lo ricordiamo per la prossima volta. 1.730, se riusciamo a rimanere qua sopra nei prossimi giorni, le probabilità, probabilità, qua certezze non ne abbiamo di andare a vedere 1.800, ci sono, diciamo, la proiezione di questo trading range ci porta dritti lì, dove c'è tra l'altro la media a 200. Argento lo stress, va bene, il resto daremo un'occhiata poi domani alle commodities, verrei alle richieste, ah, poi tra l'altro oggi, ecco, a proposito di range giornalieri, bitcoin più 11, siamo andati quasi a vedere in due giorni, cioè dopo la discesa di ieri, il target in area 14.000, sì, 13.000 che avevamo indicato, faccio, no, oggi è stato singolare vedere Bloomberg, bitcoin, la storia mostra che c'è spazio per una discesa fino a 13.000, questo pubblicato il 10 novembre, sono arrivati a conclusioni analoghe alle nostre, che però guardiamo l'analisi tecnica, avevamo dato bitcoin test e spalle, target 13.000, quindi però ecco, Bloomberg sta facendo un altro discorso, parla di situazioni passate, però questi sono target di medio periodo, oggi chiaramente sull'onda positiva per tutti gli asset speculativi, bitcoin sta cercando di ritestare dal basso la vecchia neckline che è stata rotta ieri, la neckline di questo ampio test e spalle di cui parlavo in qualche video fa, chi non l'avesse visto può andarlo a vedere. Veniamo rapidamente alle richieste, una richiesta riguarda Enel, Enel è andata a target, è andata a target, ci è andata anche prima del previsto dove ne avevamo parlato, ne avevamo parlato qui, il VIX non ha paura, Enel target 5, ci siamo andati oggi, l'ha toccato, anzi ci ha chiuso proprio quasi al tick. Cosa aspettarsi adesso? Il test di 5. Cosa vuol dire il test? Vuol dire che proverà a mettere il naso fuori tra 5 e la media 200 e qui vediamo se sul candlestick ci darà qualche segnale di esaurimento. Per il momento il trend continua qui di Enel, questo movimento di recupero molto importante, vi avevo detto che mi attenderei qui la formazione di una specie di spalla destra dopo l'ampio movimento di reversal che si è preparato nel corso delle settimane scorse, quindi interessante. Altre richieste riguardava De Longhi, anche qui siamo andati a target, media 200 e i vecchi massimi relativi, quindi direi all'amico di seguire molto attentamente cosa succederà nei prossimi giorni. Oggi sono venuti fuori i venditori, quindi attenzione al comportamento dei prossimi giorni. Intel si muove, a parte che qui bisogna aprire un attimo la scala perché con la compressione che c'è dopo la discesa che ha fatto, Intel sia a rialzo che a ribasso è un titolo che macina. Macina significa si muove lentamente, si fa la sua spinta, poi torna a ritestare i supporti, poi riparte verso l'alto, poi ritorna a ritestare i supporti, oggi più 5 e 9. Anche qui si sta formando, anzi si è già formato, con il tool di regressione lo possiamo vedere, un canale rialzista, spazio verso l'alto ce n'è, non ci sono, ecco la prima resistenza importante è a 30, quindi un target 30 io qua lo vedrei per Intel. Verso il basso, attenzione qui, perché chiaramente la chiusura di ieri che è qui a 27,5, oggi qui si è formato un minimo importante, minimo importante dato al minimo di ieri e il reversal di oggi, insieme a tutto il mercato sta facendo questo più 5, più 6%, tutto il mercato dei tecnologici intendo dire. Chiudiamo velocemente, perché il tempo è quasi finito, un amico ha segnalato tre titoli, praticamente tutti nella stessa situazione tecnica, dove dice, secondo me siamo vicini a un top, questo ce lo diceva ieri, non sapeva della candela di oggi, ha ragione, nel senso che comunque questi erano titoli difensivi, ne faccio vedere uno per tutti, perché non c'è il tempo, comunque McDonald's, Eli Lilly e Merck, sono titoli difensivi, McDonald's settore food, che ben conosciamo, Eli Lilly e Merck settore farmaceutico, che quindi si sono comportati da bravi difensivi in queste settimane, e quindi restando sopra la media 200, 200 senza fare niente di che, però comunque performando meglio del mercato, ovviamente quando il mercato rimbalza, oggi è la giornata dei tecnologici, che erano stati venduti a man bassa, per diverse settimane, quindi il tecnologico fa più 6, questi tornano indietro, o si fermano, Eli Lilly più 0,6, Merck meno 0,17, oggi non è la giornata dei difensivi, chiaramente, è la giornata degli aggressivi, dei titoli growth, e qui si è formato un Berish and Gold, quindi c'è da attendersi, un consolidamento con riteste dei vecchi massimi, McDonald's molto importanti, questi massimi a 2,65, vediamo se questo è stato una falsa rottura, oppure se verrà confermata, e ci sarà la prosecuzione verso l'alto, l'impostazione però è positiva. Va bene, abbiamo finito il tempo, anche oggi, non perdetevi il video di domani, grazie come sempre per l'attenzione, buona serata a tutti, grazie per i like, iscrivetevi ai canali, appuntamento a domani.